Amici dell'Orienteering, campionati italiani long distance, oggi è la volta di Aprica ma Aprica è strettamente legata al nome Mortirolo, quindi oggi per accedere alla cittadina aerobica abbiamo scelto quella che forse è la via più difficile. Mettiamo il casco e occhiali rigorosamente a Ruby Project e andiamo! Io mi chiedo perché devo avere queste idee del cacchio! Bene, ce l'abbiamo fatta, andiamo a vivere questi campionati italiani! Grazie per la visione! E siamo ai 1700 metri del Palabione, siamo con Fabio che sta preparando il ristoro per gli atleti di oggi, andiamo a sentire però le voci dei protagonisti! Campionessa middle, campionessa long, quest'anno scappa da solo la sprint? Eh sì! Ho fatto una gara regolare oggi, due o tre incertezze però sono sempre riuscita a mantenere la concentrazione. Allora, domani si tenda il bis in staffetta e inoltre qui abbiamo una campionessa magari del futuro. Domani si vince? Io! Sicuramente due dei protagonisti più grossi sono loro, Sebastian Inders, accreditato nel secondo tempo e Roberto Dallavalle primo. Per te sarebbe il primo titolo italiano? Sì, questo è il mio primo titolo italiano e dai, sì, sono contento per com'è andata. Ecco, per venire ai campionati italiani hai rinunciato ai campionati nazionali svizzeri. Esatto, ho deciso di prioritare questo appunto per motivo di iniziare a farmi vedere, far vedere che sono interessato all'Italia, magari a ambire alla nazionale azzurra. Si conclude quindi questa giornata di campionati italiani long, una giornata che per qualcuno ha riservato amarezze e per altre grandi gioie. Sicuramente il più tifato di giornata è stato Marco Della Vedova, idolo di casa. È stata una grande emozione, una grande gioia vedere tutti questi atleti correre nelle mie montagne. Per te com'è andata? Eh, purtroppo malissimo. Ecco, malissimo, come male è andata al Tropelli delle Regioni per la Lombardia che però punta al pronto riscatto già domani. Ci sono! 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 Ci sono!